Negli ultimi sette giorni la situazione contagio in Sardegna registra un peggioramento rispetto alle ultime settimane. A partire dai casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, 938 più 7,9% rispetto alla settimana precedente, ma anche per i casi testati ogni 100.000 abitanti, 1.155 più 10,3%. E per ciò che riguarda i posti letto in terapia intensiva occupati dai pazienti covid, seppur diminuiti, restano comunque al 32%, dunque sopra la soglia critica del 30%. E quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe per la settimana che va dal 9 al 15 dicembre? Analizzando i dati da tutta Italia, si conferma un lieve rallentamento nella crescita dei nuovi casi. Cala la pressione sugli ospedali, ma aria medica e terapia intensive rimangono sopra la soglia di saturazione, rispettivamente in 10 e in 14 regioni. E continua a salire il numero dei morti per covid anche in Sardegna. Solo ieri si sono registrati 23 decessi, il dato più grave dall'inizio della pandemia. Dati, secondo le analisi del Gimbe, che lasciano trasparire il raggiungimento di un picco massimo di contenimento con le attuali disposizioni. Secondo il presidente della Fondazione, il professor Nino Cartabellotta, le misure restrittive introdotte dall'ultimo DPCM hanno infatti frenato la diffusione del contagio. Ma la lenta e regolare discesa della curva, unita a un rapporto tra casi positivi e casi testati, che è ormai stabile da tre settimane, suggeriscono che le misure di mitigazione abbiano ormai dato il massimo risultato. E ora, con le progressive riaperture, verosimilmente la curva prima rallenterà la sua discesa, per poi tornare inesorabilmente a salire. I prossimi giorni saranno quindi fondamentali per definire l'andamento della curva nella prima parte dell'inverno, tra nuovo DPCM, screening a tappeto nell'isola e arrivo della prima dose di vaccini, che servirà a coprire 33.000 cittadini sardi.